Sono qui per ringraziare tutti quanti per aver aderito al nostro obiettivo. Il nostro obiettivo sarebbe quello di riuscire a formare altre persone, nel senso che abbiamo bisogno di tanti ancora altri volontari. Però ringraziamo soprattutto a tutti quelli che hanno aderito alla nostra concretezza di quello che volevamo fare e abbiamo fatto questa lotteria e ringraziamo moltissimo tutti quei negozianti che hanno aderito, che hanno fatto in modo che noi riuscissimo a fare questa cosa. Ringraziamo anche la Proloco perché la Proloco è quella che distribuisce i premi, anzi vorrei dire una cosa, che ci sono anche altri premi da ritirare. Ma perché avete promosso questa iniziativa? Questa iniziativa l'abbiamo promossa perché giustamente vogliamo fare questo corso ancora e poi vogliamo farci conoscere. E in più vogliamo che tante persone vengano a vedere quello che facciamo noi in modo che anche loro possano fare quello che facciamo noi. Perché veramente, credetemi, è una cosa molto bella che fa molto bene a tutti. Vi ringrazio. Un corso di aggiornamento per volontari ospedalieri. Un corso di aggiornamento per i volontari ospedalieri. Comunque un ringraziamento a tutti. e se qualcuno vuole essere nella nostra associazione saranno benvenuti. Grazie a tutti. Grazie.